È stato messo dai domiciliari un architetto di Santa Caterina, due le accuse principali che pendono sul suo capo e sono estorsione ai dipendenti e autoriciclaggio. L'uomo richiedeva, secondo le investigazioni della Guardia di Finanza, mediante minaccia di licenziamento, una parte dello stipendio, quindi la restituzione in contanti dei compensi percepiti per le prestazioni effettuate. Dopodiché la Guardia di Finanza ha anche sequestrato per equivalente, un sequestro preventivo, la somma di 173.000 euro e 204. Secondo la Guardia di Finanza, le provviste di denaro contenente illecidamente accumulate nell'anno 2011 venivano occultate mediante il rimpiego per le esigenze dettate dall'esercizio dell'attività di impresa, configurando così la condotta penalmente rilevante di autoriciclaggio.